Per eccellenza del Polesi nella filarmonica Vincenzo Bellini di Rosolina, attualmente diretta dal maestro Patrizio Marchiori. Ha festeggiato nel 2008 i cento anni della sua fondazione e noi li celebriamo con un concerto tenuto a Rosolina Mare il 20 luglio 2015. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora una cosa da brivido, l'inno di Mameli eseguito da 600 orchestrali nel 2008 a Rosolina Mare per gentile concessione della filarmonica Vincenzo Bellini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.